La religione ha perso la categoria della bellezza perché hanno rinunciato a tutte quelle configurazioni non razionali, così utili alla fede che non è un elemento razionale e se noi andiamo in una chiesa di oggi, vediamo che come diceva giustamente Padre Turoldo, i nuovi templi sono dei garage dove è posteggiato Dio e i fedeli disposti in prima fila davanti a Lui. Oggi hanno perso la bellezza perché hanno rinunciato alle cerimonie, hanno rinunciato alle messe in terza, hanno rinunciato al canto, hanno rinunciato alla polifonia, hanno rinunciato al canto gregoriano, hanno rinunciato all'incenso, c'è un prete da solo senza neanche un chierichetto che fa le sue pratiche rituali e la forma della preghiera è semplicemente preghiamo e la gente risponde preghiamo, ma quando la religione perde la bellezza ovviamente perde la condizione per cui la fede è praticabile perché la fede deve muovere la mozione degli affetti non potendo essere confermata e assimilata su basi razionali. Comunque la bellezza è una dimensione assolutamente incompresa, quando uno dice bello significa che non ha letto il libro e dice che è bello per risolvere i suoi problemi, ma la bellezza è una dimensione inquietante perché la bellezza comporta un sacrificio della propria parte razionale, un sacrificio del Dio. Quando vedi un quadro, il quadro non è bello, il quadro è bello, cioè appartiene alla bellezza, la sola condizione che ciò che vedi rimanda a qualcosa che non vedi ed è in queste dimensioni inquietante che si determina la bellezza perché come dice giustamente Heidegger a proposito dei creatori di bellezza, i poeti sono i più arrischianti perché per fare cose belle bisogna scendere nella propria parte irrazionale, cioè folle e anche Carlo Aspers che è stato il più grande psicopatologo del Novecento, dice che quando noi contempliamo una perla e ne ammiriamo la bellezza, dimentichiamo che la perla è la malattia della conchiglia e senza la follia o, lui dice, la schizofrenia del creatore, quell'opera non sarebbe mai nata. La bellezza è inquietante, non è una cosa tranquilla.